si 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 allora se hai capito uno che è dall'asso il c Christina è certo 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 ti proibisco di dileggiare se ha detto allora io te l'ho già detto tre ore tu la storia tu la storia del G�� c'è no me lo dici più sei un fascista di merda no che discusa ha detto no no sono stuporio questa situazione qua, lui non lascia parlare alle persone, gli salta davanti con le parole, è un fascista ruba anche i campionati